237.000 le varianti del virus in giro pare il mondo, di cui 9 solo in Veneto. Mi raccomando ragazzi, state attenti alle varianti. Adesso ve le presento. Variante de Venessia. Soffre l'acqua alta e speriamo nel Mose. Variante de Verona. As è matta. Per sconfiggerla basta un piattin' de Peara con la Miola. Variante de Rovigo. Istrumenti no la rileva. As è sconta dalla nebbia. Variante de Treviso. Variante millesimata. Variante de Belluno. Porra variante de Bellun. Desi proprio de Nisun. Variante de Vicenza. Non se sa parche, ma se è pericolosissima per i gatti. Variante de Padova. Fare attenzione a se è una variante molto intelligente. Se laureata. Variante de Ciosa. Ma cosa vuoi tu? Ti spacco la bocca a me. E per finire, la variante Mona. Mi raccomando, non stai a farvi contagiare dalla variante Mona. Mi pare impossibile che dopo un anno de Pandemia la che sia ancora in giro. Ma se è diffusissima. Perciò mi raccomando il distanziamento. Soprattutto distanziamento da quei qua variante Mona. E la variante Astemia? Quella l'abbiamo debellata, Dino. Col vaccino? Col prosecco, Dino. Nemo, dai al bar. Prima che sera.